Musica Musica Sembrava essere fotografico Ma in realtà, almeno questo è il nostro desiderio E' anche narrativo Ecco, nonostante tutta questa miseria Tutta questa povertà che potete vedere in queste fotografie E anche se leggerete il saggio Leggere in questi risoconti Perché i commissari vanno e descrivono Cioè, leggere i pervali di queste commissioni d'inchiesta Ci sembra proprio di essere a Curave, a Pezzaze, a Collio, in Valvestino Perché descrivono proprio, entrano in casa di... Musica Musica There's things I hope and things I believe I believe in family Since I was young, you kept me going